Prima del prolungamento della superstrada, i lavori di messa in sicurezza, Umberto Maerna, parlamentare di Fratelli d'Italia e in passato vice sindaco di Magenta, chiede l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche nel tratto già esistente e in particolare da Magenta all'imbocco dell'autostrada A4 a Mesero, un tratto che ha visto negli ultimi anni vari incidenti anche con gravi conseguenze. A causa della mancanza dello sparti traffico nella parte iniziale della superstrada questi incidenti, che si verificano a cadenza ormai tragicamente regolare, sono destinati potenzialmente a proseguire, secondo Maerna, che per questo ha presentato un'interrogazione al Ministero per sollevare il tema e chiedere un intervento urgente, di messa in sicurezza. Nello specifico il deputato ha chiesto di intervenire tempestivamente tramite ANAS per tutelare la salute di migliaia di persone che ogni giorno percorrono l'arteria stradale e che negli anni è diventata la principale linea di comunicazione tra l'aeroporto di Malpensa, l'autostrada Milano-Torino e l'area metropolitana di Milano. Attendo fiducioso che in un arco temporale ridotto si possa ottenere una risposta, ma soprattutto le opere necessarie a fermare la piaga dell'elevata e inaccettabile incidentalità del tratto, così la definisce l'onorevole Maerna.